Tanto occasione pericolosa per i Roma City, vediamo come sfrutterà la formazione di Maurizzi, ancora la conclusione da fuori, deviata e per poco non finisce in porta. Barzanti corto, può uscire fuori il pressing del Roma City, pressing efficace, dato un lancio lungo di Scogna Miglio, interviene e c'è l'autorete! Di Antezza, che sblocca l'incontro, Roma City avanti, prima rete stagionale della squadra di casa. Tanto corner già abbattuto al centro, non arriva fuori per Intinacelli, tanto poi esce, pallone fuori, era sulla traiettoria a Muraka, giopero errato, recupera palla il Roma City. Ancora ecco Del Mastro, lo tocca a sua stessa verso Di Renzo, anzi Pellegrino, chiediamo scusa, Pellegrino Di Renzo per la conclusione della 10, finisce fuori. Ancora lunga verso Di Renzo, bella qui la rimessa di Del Mastro, può essere una soluzione! Forse spizza la traversa, secondo, almeno, proprio messa dalla nostra postazione, che occasione qui del Roma City. Ancora si duella al centrocampo, ottimo tocco dell'11 verso... Se non svegliamo Ranieri... Tanto ancora sfondare in Notaresco e c'è la rete! La rete di Forcini! Roma City che, per quanto ha prodotto, meritava forse il 2-0, Notaresco invece, che ha approfittato di... di questa ripartenza, questo assist di Marrancone verso Forcini c'è in questo momento in area Proia in qualche modo, però il pallone rimane lì ancora... Braghini è appena entrato, mette palla al centro il pallone... ancora lì e che parata ha fatto! Muraka! Che... si è imposto di piede su Marrancone e si parte quindi possesso Notaresco Conner battuto ci arriva forse Fradella l'allontanato poi col mancino pallone che arriva in qualche modo a Proia e ha calciato Pellegrino Proia mette al centro e c'è la rete di testa! C'è la rete di Codromaz che sblocca questa ripresa e riporta avanti il Roma City sul 2-1 Girenzo finisce a terra non c'è fallo riesce a servire il compagno pallone al centro e c'è la rete! Il 3-1 del Roma City che assist che ha fatto Capece Roma City col gol di Mancino prima ci riesce a battere questo corner Proia mette al centro ci arriva che gol che gran gol del Roma City quello del 4-1 un assist al bacio di Proia di Renzo la scaraventa dentro quando siamo alla mezz'ora del match Proia prova a regolare il pallone e lo fa in questo momento di Renzo va per via centrali ecco l'autore del 4-1 ancora di Renzo di Renzo sfonda per via centrali c'è il tiro ma che parata che ha fatto e c'è la seconda battuta di Renzo che fa doppietta che gol come prima assist di Proia dei giocatori a cui si fida ciecamente intanto Proia scodella al centro quest'area risponde e c'è la rete la rete di Tinti appena è entrato come fosse un film 6-1 Bessingora di Capece a chiudere intanto conclusione insidiosa ci mette le mani Muraka che non vuole concedere altri gol questa dovrebbe essere l'ultima azione del match pallone intanto allontanato in questo momento arriva il triplice fischio grazie a tutti grazie a tutti